Un famoso detto ispirato dalla saggezza popolare afferma che piove sul bagnato. Se guardiamo all'andamento dell'economia degli ultimi due anni, il bagnato in questione è la crisi causata dal covid, mentre le nuove precipitazioni sono piovute con la guerra in Ucraina. La crisi è globale e ci riguarda un po' tutti, ma alcuni di più, poiché la rete degli aiuti non è affatto uguale per tutti. I costi dell'energia, del trasporto, delle materie prime e la flessione dei consumi rischiano di dare la mazzata finale ad un settore, quello del terziario, già in grave difficoltà. Per questo la Confessor Centi lancia un appello al governo affinché si rimettano in campo le contromisure adeguate, come per esempio la cassa integrazione, perché poi alla fine chi paga sono i lavoratori, licenziati da chi non se li può più permettere e i cittadini nelle cui tasche approdano gli aumenti, uno su tutti, per esempio quello del pane. Prossimo venturo. Purtroppo oggi l'impresa non può intervenire su un'unica parte, cioè sul ridurre la produzione e quindi ridurre automaticamente anche le unità lavorative. Questo non deve accadere e quindi occorrono anche qui per il nostro settore un intervento ben chiaro utilizzando la cassa integrazione per chi in questo momento sta avendo delle difficoltà. È un momento delicatissimo, sappiamo bene gli aumenti che stiamo vivendo quotidianamente e quindi chiediamo urgentemente che qualcuno intervenga, per qualcuno purtroppo è il governo, perché il governo deve intervenire urgentemente ma non a settori ma su tutta la filiera. Sappiamo di tre le tre voci più importanti che in questo momento stanno sconvolgendo l'intera attività produttiva, cioè il costo dell'energia, il costo del gas e il costo dei carburanti. Le tre voci praticamente stanno influendo più del 50% dei costi di ogni azienda, quindi un intervento mirato ma complessivo su tutte le attività produttive. È stato annunciato proprio in conferenza stampa che ci sarà purtroppo un ritocco del prezzo del pane, ma è stato anche detto che non tutti gli aumenti poi sono così giustificati per così dire dalla guerra. Esatto, purtroppo poi come ben sappiamo quando c'è un momento di emergenza tutti si mettono all'interno di questa botola, quindi ci sono sicuramente delle speculazioni, non ci dobbiamo vergognare di dirlo, purtroppo ci troviamo ad avere degli aumenti anche su materie prime che in questo momento sono state già prodotti, quindi già sono state stoccate e raccolte probabilmente in epoche diverse da queste che stiamo vivendo adesso, quindi non capisco perché quel determinato prodotto debba subire in questo istante un aumento quando già è in stoccaggio all'interno della cisterna o di altre tipologie di magazzini, quindi sicuramente si stanno facendo anche delle speculazioni.